5.51, 6 agosto 2015, dalla stazione dei treni di Tabas alla presunta fermata dell'autobus, in mezzo al deserto, all'alba, nei carri trallici elettrici. Arriburre, inshallah, veramente, chezza, guardate, quella è l'insegna, Terana, Yaz, io sono sulla parte di Yaz e devo andare. Vai, aspetta, arrivo, che storia, ora proviamo a fare l'autostop, vediamo chi mi carica, anche se mi sa che è vietato.